Emergenza cinghiali. Questa mattina un tavolo nel comune di Spoltore con il coordinatore delle guardie venatorie Giovanni Spina che insieme ad altri 5 volontari si occupa del controllo della popolazione della specie più attenzionata dei media. Tanti comuni che vengono costantemente monitorati grazie anche ai vari sindaci che hanno firmato le relative ordinanze. Monte Silvano, Abbateggio, Rosciano e San Valentino. Anche il comune di Pescara ha dato avvio all'abbattimento di 101 cinghiali. L'operazione è stata affidata alle guardie venatorie volontarie visto che i semplici cacciatori, seppur muniti di regolare il porto d'armi, non possono assolutamente intervenire in zone residenziali. Abbiamo portato in commissione il problema perché i cinghiali sono presenti non dentro la città di Pescara ma sulle zone periferiche. Le guardie venatorie specializzate hanno contato 101 esemplari, 2 caprioli e hanno avvistato anche 2 lupi, tutto in periferia sulle zone collinari. C'è una nuova ordinanza del sindaco di Pescara che autorizza l'abbattimento dei cinghiali perché sono pericolosi sia per l'uomo, per le cose e soprattutto per i danni che fanno sui terreni privati. Quindi la nuova ordinanza del sindaco che rispetta l'ordinanza regionale prevede l'abbattimento dei cinghiali. L'emergenza vera e propria interessa alcune zone specifiche della città, i colli, la zona del cimitero, Sandonato, Fosso Mazzocco, Via delle Fornaci e Zanni. Studiamo bene la situazione, facciamo i dovuti sopralluoghi perché quando si fanno questi interventi mirati si devono essere fatti in assoluta sicurezza. Quindi si utilizzano carabine per questo tipo di intervento e utilizzando una carabina noi dobbiamo sparare sempre quando abbiamo il parapalle dietro. Quindi dobbiamo evitare che la palla, anche se non colpisce l'animale, vada a finire dove può fare danno. E prima verificare pure perché quando si spara la palla può anche rimbalzare. Quindi noi prima studiamo bene il territorio, l'angolazione di tiro e tutto. Dopodiché se si può sparare all'animale si fa diversamente, lo si allontana e basta. Con l'approvazione del piano faunistico regionale venatorio valido sino al 2027 è stato firmato un nuovo provvedimento il 26 dicembre scorso valido sino alla scadenza del piano regionale stesso che consente di procedere con l'abbattimento degli animali.